Erosione costiera è una delle problematiche che la protezione civile anche in provincia di Agrigento deve tenere molto in considerazione e deve essere pronta ad agire. Proprio su questa tematica domani si terrà un seminario qui da Agrigento. Sì, abbiamo voluto organizzare in particolar modo l'unità operativa 11esima diretta dall'ingegnere Costa, una giornata di confronto tra tutti gli attori che si occupano di erosione costiera. Anche perché noi come protezione civile siamo intervenuti in alcune occasioni in caso di alcune emergenze per effetto di alcune ordinanze. Ma in effetti la materia non solo è molto complessa ma i protagonisti riguardo a questo argomento sono sicuramente altri enti che di concerto alla protezione civile dovrebbero pianificare e programmare una serie di interventi al regime a fine di evitare che si debba agire sempre a carattere di emergenza. Quindi domani si metteranno a confronto i tecnici dell'assessorato territorio e ambiente, i rappresentanti della Capitaneria, Genio Civile, Ordini Professionali, anche professionisti in maniera tale da poter acquisire noi come protezione civile quegli elementi che caratterizzano il sistema di protezione civile. Cioè il tavolo di confronto tra le diverse esperienze affinché la nostra attività di previsione e prevenzione possa essere più efficace. Grazie a specifiche ordinanze di protezione civile siamo riusciti a realizzare nel recente passato due interventi specifici per eliminare delle grosse problematiche nel tratto di costa andistante, il molo Aster di San Leone. Infatti abbiamo sistemato un tratto di spiaggia per evitare l'erosione costiera dei pozzetti fognari che corrono sulla battigia, per evitare l'inquinamento ambientale della zona. Inoltre abbiamo ammodernato e ripristinato la funzionalità del molo Aster di quello vicino alle superfici per evitare l'erosione e continuasse a evolversi interessando tutta la zona costiera limitrofa.